L'udienza del processo sugli isolatori sismici del progetto case slitta di 5 mesi. Il giudice Giuseppe Grieco ha infatti fatto slittare al 21 ottobre la prossima udienza, stessa data del processo sulle forniture di bagni chimici. Potrebbe configurarsi dunque anche per questo processo lo scenario della prescrizione. Alla ripresa del processo dovrebbero esserci confronti tra consulenti tecnici. I due imputati, lo ricordiamo, sono Gian Michele Calvi, direttore dei lavori nella realizzazione del progetto case, e Agostino Marioni, dirigente di una delle ditte che ha fornito gli isolatori, l'Alga S.P.A. Secondo l'accusa, l'Alga avrebbe fornito isolatori privi di certificati di omologazione. Certo è che i tempi sono quel che sono e forse potrebbe essere messa la sentenza di primo grado, ma tecnicamente non ci sarebbero poi tempi per i ricorsi in appello e dunque per il secondo grado di giudizio ed eventuale cassazione. Ricordiamo che per questo processo il giudice Giuseppe Romano Gargarela aveva condannato con il rito abbreviato, con le stesse accusi, a un anno di reclusione, e Mauro Dolce, responsabile del procedimento di realizzazione del progetto case. La sentenza era stata confermata anche in appello, ma lo scorso 8 aprile la cassazione ribaltò tutto assolvendolo. Dolce e Calvi sono indagati anche nell'inchiesta della Procura, svolta dal Corpo Forestale dello Stato, aperta per il clollo di un balcone, avvenuto nel settembre del 2014, come ricorderete, dal terzo al secondo piano di una palazzina del progetto case di Cese di Preturo. Entrambi sono già stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione ciascuno e assolti in appello in cassazione, assieme ad altri cinque esperti, per omicidio colposo e disastro colposo nell'ambito del processo alla Commissione Grandi Rischi, l'organo scientifico consultivo della Presidenza del Consiglio, di cui erano componenti, all'epoca, di quella ormai tristemente nota e famosa riunione del 31 marzo 2009, a cinque giorni dalla scossa mortale del 6 aprile.